Domani è la vigilia della solennità della Natività di San Giovanni Battista. A Chiara Montegolfi l'intera comunità dei fedeli è in festa durante tutta la giornata e fino alle 17. Ci sarà la visita dei fedeli e la recita del tradizionale rosario di San Giovanni, con la benedizione delle vesti, vale a dire i voti, che i fedeli indosseranno in onore del Santo Protettore. Le sante messe sono in programma alle 7.30, alle 9 e alle 11. Come da tradizione, a mezzogiorno il solenne scampanio in tutte le chiese del centro montano comunicherà a tutti la particolarità della giornata. Alle 18.15 il sindaco, le autorità civili e militari, con il gonfalone della città accompagnati dalla banda, si recheranno dal Palazzo Municipale alla Chiesa Commendale, per onorare il Santo Precursore, protettore di Chiara Montegolfi. Alle 19.30 sarà celebrata la nascita di San Giovanni, secondo il vetusto rito della veglia con la tradizionale apertura, cioè la svelata della Statua del Battista. Alle 21.30 in Piazza Duomo ci sarà la Notte di San Giovanni, che di fatto rappresenta l'apertura dell'estate eblea giunta alla nona edizione. A seguire, il momento più atteso degli eventi ricreativi del calendario dei festeggiamenti, con il concerto di Suor Cristina. La religiosa, molto nota per la partecipazione a Talent Show di successo, intratterrà i presenti con i brani del suo Felice Tour. Grazie a tutti.